Ennesima rapina all'agenzia di pedalino della Banca Agricola Popolare di Ragusa ad agire verso le 12 di ieri due malviventi a volto scoperto e armati di taglierino. In quel momento all'interno dell'istituto di credito si trovavano i soli dipendenti ai quali, dietro la minaccia dell'arma, non è rimasto altro da fare che consegnare il denaro contenuto in cassa che da una prima stima dovrebbe aggirarsi tra le 10 e le 13 mila euro. Una volta raffato il bottino, i due malviventi si sono quindi dati alla fuga allontanandosi a piedi per le vie della frazione. Molto probabilmente ad attenderli in auto nelle vicinanze della banca ci sarà stato un complice. Sul posto sono arrivate immediatamente le pattuglie del commissariato di polizia di Comiso e della squadra mobile di Ragusa che, ascoltati i testimoni, si sono messi sulle tracce dei due malviventi e dell'eventuale complice. Le indagini proseguono. Non è la prima volta che la filiale della BAPR di Pedelino viene presa di mira dai rapinatori. L'ultimo episodio, in ordine di tempo, si è verificato ad agosto del 2012 quando i malviventi riuscirono ad asportare circa 7.500 euro in contanti.